Le opposizioni garantiscono tutta e massima responsabilità, noi 5 Stelle, afferma Di Battista, apprezziamo il no del governo a chi chiede di bombardare la Libia, ora si rafforzino i controlli alle frontiere. Chiuse non devono essere chiuse, ma devono essere estremamente protette, controlli molto più serrati, investimenti su controlli, insomma qua c'è la situazione sempre più grave e occorre una risposta diversa.